video della sera che vi avevo promesso, vi avevo promesso un video rivelandovi i soprannomi di serginio d'est e il nuovo di divoc origi che chiameremo origi origi qualcuno mi dice guarda che si dice origi ma ho già detto che vorrei la licenza poetica perché se no il soprannome non mi suona e non vi suonerà bene ma non vorrei parlare solo dei soprannomi questa sera perché soprannomi sono importanti è una caratteristica riguardo al soprannome di destra non vorrei troppe ironie questo terzino che si ieri a me è piaciuto nel primo tempo magari un po meno a pioli perché magari non rispettava certi dettami tattici del buon allenatore rossonero ma voglio anche ricordarvi che cosa si diceva qualche tempo fa di diogo dalot che all'inizio aveva fatto molta fatica perché la pazienza lo dico sempre è la madre di ogni scienza dobbiamo usarla per quelli nuovi abbiamo aspettato un anno tonali adesso abbiamo adesso paragonano diaz addirittura a dibala in effetti diaz e poi partiamo proprio da lui se avete notato una volta in questi scontri spalla contro spalla veniva volato via veniva spostato il ragazzo ha lavorato quest'estate non si lavora solamente coi piedi per migliorare la qualità tecnica già sopraffina del folletto andaluso ma lui ha lavorato per rinforzare le spalle per rinforzare il petto adesso spostarlo non è così facile anche perché è veloce è difficile prenderlo anche le gambe hanno lavorato lì si tratta di i veri professionisti si mettono in palestra e incominciano a lavorare per per rendere più più consono il corpo all'attuale intensità del calcio di oggi prima o sei un giocatore straordinario che non ti fai prendere tutti noi nominiamo messi però messi è proprio l'eccezione delle eccezioni perché ha così una classe così pura cristallina immensa che tu non riesci proprio a prenderlo a è una classe non solo fisica ma mentale arriva prima inventa prima l'altro giorno ho visto la partita la partita del paris saint germain contro la gestione e vedere due etare mbappé e messi è uno spettacolo quindi diaz si è messo di buzzo buono come si usava a dire e adesso sia nella partita contro il la juventus che in quella contro il contro il monza e questi 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 diciamo questi contatti li ha sopportati benissimo ma veniamo alla novità ve l'ho anticipata nel tit nel sommario non nel contenuto oggi esami strumentali sia per diaz che per serginio dest allora i tutti e due non hanno lesioni ma c'è una differenza diaz ha un problema al gluteo dovesse lo monitorano ora per ora dovesse aver sempre meno male probabilmente ha sentito solo un indurimento del muscolo non di più partirà sicuramente domani per per zagabria sicuramente domani per zagabria il giocatore non 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 è non è considerato un giocatore ad alto rischio se viene portato e si allena e gioca la partita nel caso che scegliesse di partire dal primo minuto con lui cosa che non so se sarà così mentre dest l'aera il gluteo un indurimento dest invece ha avuto un problemino senza lesione per fortuna la gamba quindi per concludere servirà un pochino più di prudenza perché il rischio è leggermente più alto per serginio per serginio dest quindi questa la situazione dei due giocatori per quello che riguarda il resto la formazione è presto per ipotizzarla bisogna vedere se filosoficamente che cosa vuole fare pioli secondo me lui giocherà con rebic a destra rebic che domani che domani sera a zagabria sarà il protagonista della conferenza stampa insieme a stefano pioli quindi il fatto che lui sia protagonista della conferenza stampa di solito chi è protagonista della conferenza stampa è anche un giocatore fra i titolari di solito calcolando che siamo nella patria di rebic non credo che facciano mettano rebic a parlare e poi non lo mettano del primo minuto ma questo ma il fatto di rebic ve l'avevo già detto prima rebic Giroud Leao bisogna vedere se metterà addirittura anche Diaz in mezzo quindi rebic Diaz Leao Giroud o più prudentemente via Diaz che ha giocato la partita contro il Monza inserendo Krunic sia dietro Giroud oppure nel 4-3-3 è questo da valutare ma prima di parlare dei due soprannomi vi ricordo sempre di scaricare l'applicazione dal link in descrizione di numero 10 gratuito sul weekend di calcio italiano europeo e sulla Champions che sta per partire da dopodomani due giorni infernali perché siamo alla quinta giornata e ho pensato ripeto non voglio ironia perché ci credo credo a questo giocatore molto brillante molto grande personalità coraggio qualità titolare della nazionale statunitense insomma a me Serginio Dest intriga che soprannome molto semplice ma il soprannome è molto semplice mi è venuto in mente Cartesio Freud e allora il soprannome di Dest qual è se non sogno o son Dest è questo il soprannome prende la palla sogno o son Dest diceva Cartesio questa è molto bella lo leggo perché è molto complicata è inutile studiarmi la memoria Cartesio si pone questa domanda alla quale gli stesso dice che è molto difficile poter dare una risposta perché in fondo sogno o son Dest lui diceva io l'ho aggiornata quando noi normalmente sogniamo e poi ci ricordiamo svegliandoci di aver sognato nel momento in cui sogniamo noi non ci accorgiamo di sognare quindi sogno o son Dest e io dico quando vedo lui che va che vola via gli avversari e mi auguro che sia un punto di partenza sogno o son Dest no sogno o è lui Dest che ci aiuta a sognare con quei suoi dribbling con quelle sue giocate vedrete abbiamo pazienza abbiate pazienza ma anche lui diventerà un giocatore importante per questo Milan ieri ripeto non è ancora un po' troppo esuberante per il rigore tattico di Stefano Pioli ragionate una cosa quando va avanti Teo Hernandez il terzino dall'altra parte non deve andare deve stare e appunto il contrario su questo è molto rigido giustamente Stefano Pioli gli equilibri sono fondamentali ma quindi sogno o son Dest Dest è il soprannome di Dest avevo detto original marine però volevo un soprannome che mi è balzato alla mente quando ha preso la palla di Voco Rigi da fermo ha tirato un tiro splendido là all'incrocio dei pali che cosa avete provato in quel momento? stupore? sballottamento? quasi un senso di vertigine vertigine origi quello il soprannome vertigine origi va bene origi? no io lo chiamo origi proprio perché è vertigine origi ci dà le vertigine ci fa ci dà uno scombussolamento origi con quei suoi scatti è già un mio idolo a me piace mi ero già innamorato di lui un pochettino a Verona e adesso mi dà veramente le vertigine questi due soprannomi nuovi dopo il menestrello innamorato che vorrei che incominciasse a suonare come un qualche tempo fa il liuto caro amico nostro de Ketelare e poi vedremo Vranx e Cho appena incominceranno a essere protagonisti ma sogno son Dest? Dest mi piace e vertigine origi vertigo vertigini meraviglioso se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di Carlo Pellegati e attivate la campanella